Ciao, sono Luca, questi due sono i miei due cavalli da tiro Tor e Mare, salvati dal macello tramite il progetto Save the Working Horse, lavorano con noi nella nostra azienda agricola per coltivare ortaggi, sono bardati con attrezzature provvisorie poiché sono ancora giovani e quindi aspettiamo che siano formati totalmente per comprare attrezzature costose e definitive Bene, eccoci qua, oggi per la prima volta attaccheremo Tor e Mare in Pariglia, cominciamo un lavoro di base per quanto riguarda la loro evoluzione nel lavoro dei campi, adesso andiamo assieme a vedere cosa succederà Venite con noi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti